Chiuso in maniera definitiva l'ex hotel al river di San Giovanni Valdarno, ad annunciarlo è stata la sindaca Valentina Vadi nel corso del Consiglio Comunale. I sigilli agli ingressi dell'edificio sul quale pendeva un'ordinanza di sgombero firmata dalla prima cittadina lo scorso luglio per gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza pubblica sono scattati dopo l'incendio di questa mattina. Le persone che si trovavano all'interno sono state ricollocate, alcune in maniera autonoma, altre trasferite in altra struttura supportate anche dai servizi sociali, chiuse poi tutte le vie di ingresso e di accesso. L'allarme è scattato questa mattina attorno alle 9.30 quando dalle finestre del secondo piano dell'ex hotel al river è stato notato fuori uscire fumo. Siccome c'hanno le bombole di gas e tutto, allora chiamò viceli fuori e dopo tre minuti neanche sono arrivati. Meno male, non c'era punti feriti, non c'era nessuno. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Montevarchi per sedare le fiamme e bonificare l'aria. L'incendio sarebbe partito dalle stanze per poi propagarsi all'intero piano. Non ci sarebbero persone comunque rimaste coinvolte né intossicati. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, la Polizia Municipale e i Carabinieri di San Giovanni Valdarno.